Qualche maligno dopo le prime 5 giornate dava Entella e Ternana già come vittime sacrificali invece arrivano a giocarsi questa sfida con un'ottima classifica, con tanti punti e un traguardo prestigioso che adesso dopo aver raggiunto la quota 50 proverete a conquistare Sì, credo che sia noi che loro siamo due buone squadre, due buoni organici in questo momento due squadre anche in salute perché comunque loro vengono da due vittorie consecutive con squadre importanti come Pescara e Avellino quindi sarà sicuramente una bella partita che dovremo cercare di far nostra anche se è una partita che ha sicuramente mille insidie Ecco, ci arrivate molto bene, però con qualche deficitario dal punto di vista dei numeri ma anche a Masucci c'è qualche indisponibile è facile pensare ovviamente anche a sinistra un impiego di Sini? Sì, Sini o Zanon, i sostituti naturali per quel ruolo sono questi è vero che abbiamo qualche assenza importante però credo anche che sia un'occasione per chi ha giocato meno di dimostrare il proprio valore perché questo gruppo è un gruppo importante e nei momenti importanti il fatto di avere a disposizione dei ragazzi che hanno lavorato sempre bene può fare la differenza mi auguro che sia così anche domani Il fattore comunale ha sempre inciso positivamente per voi domani è una gara importante e sfruttare anche il turno casalingo per cercare di conquistare il massimo dei punti da qui fino a fine del campionato Sì, io credo che per noi domani sia una gara quasi decisiva perché poi abbiamo la trasferta di Lanciano e la partita in casa col Modena e in queste tre partite ci giochiamo tanto perché dobbiamo cercare, se vogliamo, puntare a un obiettivo importante come quello di Pelof di rimanere agganciati lì a quel carro fino in fondo saranno sicuramente tre partite insidiose però è normale anche che dobbiamo cercare il fan nostro abbiamo fatto tanto in questi sette, otto mesi di lavoro per garantirci la salvezza che è arrivata a nove giornate alla fine adesso vogliamo continuare, vogliamo proseguire vogliamo provare a raggiungere qualcosa di sperato fino a poco tempo fa L'incoscienza di chi va a raggiungere, a provare a raggiungere un obiettivo che inizialmente sembrava insperato psicologicamente la squadra come la sta vivendo questa situazione? Ma questa è una cosa che sinceramente la dobbiamo vivere bene ma chi dice che non abbiamo niente da perdere non mi piace perché comunque abbiamo da perdere sette mesi di lavoro abbiamo da perdere tante partite giocate in maniera bellissima tanti sacrifici fatti nel corso di quest'anno sicuramente abbiamo la serenità di poter puntare a un obiettivo importante ma comunque se siamo arrivati fin qui come ho detto a giocarci un obiettivo importante perché nei passati mesi ce lo siamo costruito e quindi è guai a pensare che non abbiamo niente da perdere perché se ci siamo arrivati è grazie al lavoro al sacrificio e alla predisposizione alla disposizione di tutti a cercare di raggiungere un obiettivo importante a cercare di raggiungere un obiettivo importante a cercare di raggiungere un obiettivo importante a cercare di raggiungere un obiettivo longe소